Una figura tra l'arco dell'ultimo chilometro, i corridori che bloccano una moto. E' Fruman che va a piedi, ma è consentito, cosa è successo? Lui deve finire con la bici, ma sta aspettando che la bici chi dia la porta. La miraglia. Infatti deve prendere la bicicletta dal cambio ruota neutro? Ma che disastro. Siamo in un altro modo, il Tour de France non sta riuscendo a gestire gli armoni. No, ma il Tour de France è la grande guerra, ma tutta questa gente. No, la festa nazionale, una figura del genere.